Non mi aspettavo certo che ci motivasse così tanto, questo è poco ma sicuro, però vedendo alcune immagini, vedendo come poi alla fine la vita ti porti a fare qualcos'altro, partire dal clown a fare l'animatore fino a diventare un inviato di strisciare notizie è davvero bellissima, penso sia una cosa bellissima non arrendersi mai, penso che abbia poi interpretato quella che è la filosofia di Nelson Mandela, il vincitore è semplicemente qualcuno che non si è mai arreso, un sognatore anzi. A un mio coetaneo vorrei dire di non arrendersi e di provarci ugualmente anche se magari questa società non ti permette di poterti esprimere al 100%, però sono sicura che forse c'è un posto per tutti un giorno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!